Cominciamo dall'onorevole Bocchino, Italo Bocchino di Futura e Libertà. Voi che posizione avete assunto a proposito di questa iniziativa, mi pare molto critica, di Berlusconi? Sono le cose che andiamo dicendo da tempo, cioè di intervenire sulle cose vere, sui problemi del Paese, insomma ormai il tempo è scaduto o no? Guardi, la proposta che Berlusconi ha fatto con la lettera al Corriere della Sera è solo un diversivo mediatico perché è evidente che se il Presidente del Consiglio vuole fare una riforma la presenta in Parlamento e si rivolge a tutte le opposizioni. È un'operazione che gli ha consigliato intelligentemente Giuliano Ferrara nel tentativo di distrarre l'attenzione dal caso Rubbi. È servito per due giorni, la situazione purtroppo è quella che è, nel senso che il Presidente del Consiglio si trova in una situazione incompatibile con la sua permanenza a Palazzo Chigi per le ragioni giudiziarie ma anche di costume, di etica pubblica e quindi i diversivi possono funzionare per 24 ore, anche perché la maggioranza è allo sbando. Il Parlamento è riunito per approvare emozioni, ratifiche internazionali, atti di indirizzo, non c'è assolutamente una legge all'ordine del giorno del Parlamento, non c'è un solo provvedimento perché il Governo non è in condizione di produrne e non è in condizione di approvarne con una maggioranza che non c'è perché quando c'è un voto importantissimo e si portano tutte le truppe si arriva a 314, figurarsi nella quotidianità. In più c'è uno sbandamento del PDL, ieri il PDL ha fatto un comunicato stampo ufficiale a un certo punto dicendo che scendeva in piazza contro i giudici e dopo mezz'ora ha fatto un comunicato stampo ufficiale dicendo che il comunicato stampo ufficiale di mezz'ora prima... È stato un misunderstanding che è stato detto, insomma. Ma non è stato, non c'era il comunicato. Non è stato un misunderstanding, è stato che c'è un'anima che vuole che Berlusconi scende in piazza contro i giudici e quest'anima, il vero capo di quest'anima è lo stesso Berlusconi e c'è qualcuno che dice attenzione siamo arrivati in una fase come questa. Mentre in Egitto accade quello che accade, mentre in tutto il Mediterraneo ci sono dei focolai che devono preoccuparci perché siamo il pontile dell'Europa nel Mediterraneo, Frattini è indagato per abuso d'ufficio per la vicenda dei documenti di Monte Carlo. E ne vedremo delle belle perché presto sapremo che incontri riservati ha avuto Frattini nel settembre scorso a New York. Stai dando un annuncio? No, no, dico presto sapremo Frattini che incontri riservati ha avuto a New York a fine settembre del 2010. Quindi come ha esulato dai suoi compiti e come ha mortificato il ruolo della farnesina. Addirittura si rilancia il processo breve, cioè la cancellazione dei processi. Siamo in una situazione veramente fuori controllo. Io penso che anziché mandare delle lettere inutili Berlusconi, la cosa migliore sarebbe quella di prendere atto che è arrivato il momento di fare un passo indietro e di salvare il centrodestra, il bipolarismo e la legislatura. Se Berlusconi facesse un passo indietro e indicasse ad esempio Letta al Presidente della Repubblica per un incarico, noi potremmo avere una maggioranza molto più ampia in Parlamento che potrebbe portare avanti il programma. Un Presidente del Consiglio è espressione di chi ha vinto le elezioni, indicato dallo stesso Berlusconi e poi Berlusconi pensa ai suoi processi. Non possiamo trovarci in questa situazione. So che Berlusconi sta asserragliato a Palazzo Chigi, ma anche Ben Ali ha cercato di stare asserragliato. Anche Mubarak insiste per restare al suo posto. Poi alla fine gli eventi in politica sono chiari, cioè è finito un ciclo, bisogna prenderne atto. Il problema è se Berlusconi ne vuole prendere atto oppure se la sua resistenza, che può durare due giorni, due mesi o due anni, deve produrre ulteriori danni al Paese. Perché poi, mentre parliamo, nessuno si rende conto di quello che accade. Perché mentre diciamo che dobbiamo tagliare i costi pubblici, Berlusconi ha remunerato con 800 mila euro di soldi pubblici la signora Minetti, che dai documenti, anche dalla sua... E lo dice nel senso, siccome è pagata dalla regione, lei questo vuol dire, no? A me, togliendo dei dirigenti meritevoli di quello che allora era il mio partito, dal listino bloccato, l'ha fatta diventare a 25 anni consigliere regionale, dicendo che era uno scienziato, fa la pulizia dei denti, cioè voglio dire, insomma, perché poi quando dice... Adesso a Minetti non c'è come dire, non si può difendere. Iper lavorata, eccetera, cioè una signora che fa la pulizia dei denti, è un studio del dentista. Quindi, allora, lo stipendio di consigliere regionale per 5 anni è pari a 800 mila euro netti di soldi pubblici, cioè i contribuenti, noi cittadini italiani, paghiamo la Minetti 5 anni, 800 mila euro, per organizzare le scene di Berlusconi e tutto il resto che la Minetti ha detto e che emerge dall'interrogazione, dalle intercettazioni. Mi sembra evidente che gli italiani non possono accettare questo. No, a me...